Mini Total Body con cardio e pesetti, un brevissimo workout con esercizi impegnativi da combinare con altri workout. Vamos! Ok, iniziamo. Skip e rotazione oraria, quindi rotazione in avanti. Iniziamo questo allenamento, ma prima facciamo riscaldamento. Vamos! Inizio subito la respirazione naso e bocca, vai! 3, 2, 1, cambio, spinte dietro, due spinte e cambio lato, due spinte e cambio lato, vai! Scaldiamo bene tutta la parte alta, la parte bassa del corpo, ancora qualche secondo e poi passiamo alla calciata ai glutei, vai! 3, 2, 1, calciata ai glutei, vai! Una calciata con una gamba e poi con l'altra, vai! Scaldiamo bene tutto il corpo. Esercizio successivo, mezzo squat, respiro, sempre respirazione. 3, 2, 1, mezzo squat, allargo le gambe, allargo le punte, un piccolo squat. squat, iniziamo ad attivare gambe e glutei e poi passiamo allo squat completo, vai! respiro, ancora qualche secondo, 3, 2, 1, squat completo, vai! Allargo le gambe, allargo le punte, controllo il movimento, respiro, scaldiamo bene tutto il corpo, vai! Esercizio successivo, discesa frontale alternata, vai! 3, 2, 1, allargo le gambe, discesa frontale alternata, vai! Scaldiamo bene tutto il corpo. Esercizio successivo, su uno squat più elevazione delle braccia. Ancora qualche secondo, vai! 3, 2, 1, vai! Allargo le punte, scendiamo e saliamo. Eleviamo le braccia, vai! Scaldiamo bene i glutei, gambe, braccia, tutta la parte alta. la parte bassa, respiro. Esercizio successivo, torsione del tronco, vai! Ancora 3, 2, 1, torsione del tronco, da un lato e poi dall'altro, vai! Respiro, non forzare il movimento, scaldiamo bene, vai! Ancora qualche secondo e poi passiamo al jumping jack. Vai! 3, 2, 1, jumping jack! Respiro, mantengo il ritmo, salto sull'avampiede. Esercizio successivo, due distensioni, braccia avanti, più due circonduzioni. Ancora 10 secondi. Vai! 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 Respiro. 3, 2, 1, sciolgo. 2, movimenti separati, vai! Distensioni in avanti, circonduzioni in avanti. 1, 2, 1, 2, vai! Respiro. Esercizio successivo, slancio avanti alternato. Saltato, vai! Ancora qualche secondo. 3, 2, 1, cambio. Slancio in avanti, vai! Pam! Pam! Salgo bene, tocco la punta, vai! Pam! Respirazione. Mantieni il ritmo. Ancora 10 secondi. Vai! Sali bene. Su. 3, 2, 1, corsetta lenta sul posto. Mantengo sempre la respirazione attiva. Esercizio successivo, 2 arm jacks più leg jacks. Ci prepariamo. 3, 2, 1, vai! Respiro. Mantengo il ritmo. Vai! Vai! Sguardo in avanti. Respirazione. Pam! 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 Vai! Non ti fermare. Fino alla fine. Ancora. 3, 2, 1, rallento. Corsettina sul posto. Iniziamo a scendere a terra per eseguire il push up con le ginocchia in appoggio a terra. Andiamo in posizione. 3, 2, 1, 1, vai! Addome contratto. Non inarcare la schiena. Respiro. Mantieni il ritmo. Vai! Esercizio successivo. Sempre respirazione. Attiviamo braccia. Vettorali. Ancora. Esercizio successivo. Corsa lenta sul posto. 3, 2, 1, cambio. Salgo. Corsa lenta. Respiro. Respirazione. Ci prepariamo per il jumping jack. Manteniamo il ritmo. 3, 2, 1, vai! Jumping jack. Respiro. Salto sull'avampiede. Movimento ampio delle braccia. Tocco sopra e sotto. Pam, 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 vai! 10 secondi. Vamos! Butta fuori tutte le energie. Ancora. 3, 2, 1, corsetta lenta. Rallento. Respiro. Ci prepariamo al martello più spinte. Respiro. 3, 2, 1, vai! Martello più spinte. Controllo bene il movimento. Respiro. Vai! Piego le gambe per scaricare il peso a terra. Non ti fermare. Vai! 10 secondi. Ancora. Vai! 3, 2, 1, corsa lenta. Appoggiamo i pesetti. Corsettina lenta sul posto. Rimaniamo sempre in movimento. Respiriamo. 3, 2, 1, pausa. 3, 2, 1, vai! Sforbicciate i pugni. Pam, pam. Respiro. Sincronizzo il movimento. Braccia. E gambe. Sguardi in avanti. Respirazione. Su, su, su. Non ti fermare. 3, 2, 1, corsa lenta sul posto. Respira. Inspiro col naso. Espiro con la bocca. Esercizio successivo. Alzata laterale più frontale. Andiamo in posizione. Laterale. Frontale. Frontale. Vai! Addome forte. Allarga sempre le gambe. Piega leggermente le ginocchia. Scarichiamo il peso a terra. Vai! Vai! Testa dritta. Fino alla fine. Respirazione. Vai! 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 Cambio. Corsetta lenta sul posto. E ci prepariamo all'esercizio successivo. Skip sul posto. Più salto laterale. 3, 2, 1. Vai! Skip sul posto. Salto laterale. Skip sul posto. Salto laterale. Vai! E salto. E salto. Vai! E salto. Lavora sulle braccia. Vai! Skip. Gambe e braccia. E salto. Skip. Gambe e braccia. E salto. Vai! 3, 2, 1. Rallento. Corsa lenta sul posto. Respiro. Naso. Bocca. Prendiamo il pesetto. Alzata laterale più frontale dall'altro lato. 3, 2, 1. Vai! Laterale e frontale. Vai! Stessa posizione di prima. Allargo le gambe. Piego le ginocchia. Testa dritta. Mano sul fianco. Stabilizzo. Fino alla fine. Fino alla fine. Vai! Braccio leggermente piegato. Ancora. 3, 2, 1. Corsa lenta sul posto. Vai! Rimaniamo in movimento. Profitiamo per respirare. Naso. Bocca. 3, 2, 1. Pausa. 3, 2, 1. Vai! Step touch. Mi sposto a destra e a sinistra. Respiro. Naso. Bocca. Vai! Esercizio successivo. Talone glutei. Ancora. 3, 2, 1. Cambio subito. Vai! Talone glutei. Continua a respirare. Respirazione profonda. Naso e bocca. Esercizio successivo. Mobilizzazione della colonna. 3, 2, 1. Mobilizzazione della colonna. Vai! In arco. E in curvo. In arco. E in curvo. Vai! Respiro. Vai! Fino alla fine. Esercizio successivo. Allungamento laterale. Ancora. 3, 2, 1. Allungamento laterale. Vai! Scendo piano piano da un lato. Dove arrivo? Mantengo la posizione. Se riesco vado a prendere la punta. Altrimenti la caviglia. Senza forzare lo stretching. Respiro. Respirazione. Ancora 10 secondi. E poi cambiamo lato. Allungamento laterale dall'altra parte. 3, 2, 1. Lentamente cambiamo lato. Stabilizziamo. Prendiamo la punta. Se arriviamo. E teniamo lo stretching. Respiro. Esercizio successivo. Allungamento più trazione del braccio. 3, 2, 1. Vi salgo. Piano piano. Allungamento e trazione del braccio. Vai! Senza forzare. Senza forzare. Traziono il braccio. Mantengo la posizione. E respiro. 3, 2, 1. Sciolgo. Dall'altra parte. Vai! Traziono il braccio. Mantengo la posizione. Respiro. Respiro. 3, 2, 1. E lascio. Ci siamo. Il tuo allenamento è finito. Condividi con i tuoi amici i nostri allenamenti. Sempre in forma con FixFit. VAMOCE! 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 Grazie a tutti.